Da fonti sulla sua vita sappiamo che Fedro è un Libertus Augusti, cioè uno schiavo che era stato liberato dall'imperatore. Come molti altri autori di questo periodo, non è romano, ma di origine traccia, una regione tra il nord-est della Grecia e l'odierna Turchia. Anche questo è un dettaglio importante per la sua opera. Arrivato a Roma come schiavo, poi liberato, durante l'impero di Tiberio comincia a scrivere favole in versi latini.